Il vecchietto con la barbetta, uscendo di nuovo all'indietro dall'ombra del magazzino, guardava a sinistra e a destra facendo un gesto con le mani come per attirare verso di sé il pesante camion di cui dirigeva la manovra. Le mani dicevano Un po' a destra, bene, diritto, piano, a sinistra, e adesso freni, freni! E il camion anch'esso a marcia indietro attraversava maldestramente il marciapiede e si inseriva sulla strada dove il vecchietto ora faceva segno alle auto di fermarsi un istante. Era il terzo camion in mezz'ora che usciva a quel modo dall'ampia volta sul cui frontone si leggeva «Catuar et potu, metalli». Parole familiari a Maigret, giacché le aveva sotto gli occhi ogni giorno da più di trent'anni. Era alla sua finestra in Boulevard Richard Lenoir e fumava la pipa a lente boccate senza giacca, senza cravatta. Dietro di lui, in camera, sua moglie cominciava a rifare il letto. Non era malato ed era questo il fatto straordinario perché erano le dieci di mattina e non era nemmeno domenica. Stare alla finestra nel bel mezzo del mattino a osservare distrattamente Landirivieni nella strada a seguire con gli occhi i camion che entravano e uscivano dal magazzino di fronte gli dava una sensazione che lo riportava a certi giorni della sua infanzia quando sua madre era ancora viva e lui non andava a scuola a causa di un'influenza o perché le scuole erano chiuse. La sensazione, in qualche modo, di scoprire cosa succedeva quando lui non c'era. Era già il terzo giorno, il secondo se non si contava la domenica e lui continuava a provare un'estasi mista ad un vago disagio. Stava facendo un mucchio di scoperte. Si interessava non solo ai movimenti del vecchietto con la barba che gestiva l'uscita dei camion ma, per esempio, anche al numero di clienti che entravano nel bistro di fianco. Era già capitato che passasse la giornata nel suo appartamento quasi sempre perché era malato e a letto o in poltrona. Questa volta non era malato. Non aveva niente da fare. Poteva usare il suo tempo come più gli piaceva. Imparava il ritmo delle giornate di sua moglie, con che cosa cominciava le faccende, in che momento andava dalla cucina alla camera e come faceva seguire un gesto a un altro. Di colpo gli ricordò sua madre quando si occupava della casa mentre lui anche là rimaneva alla finestra. Come lei, la signora Megre gli diceva adesso dovresti spostarti nell'altra stanza così posso spazzare. persino l'odore della cucina che cambiava e che stamattina era quello del fricandò con l'acetosa. Ridiventava attento come un bambino a certi giochi di luce, all'avanzamento della linea d'ombre di sole sul marciapiede, alla deformazione degli oggetti nell'atmosfera fremente di una giornata calda. La cosa sarebbe durata ancora diciassette giorni. Perché cominciasse ci erano volute un bel po' di combinazioni e coincidenze e, prima di tutto, il fatto che in marzo avesse sofferto di una bronchite abbastanza seria. Si era alzato troppo presto, come sempre perché al chiede sorfevre il lavoro incalzava. Era dovuto tornare a letto e per un attimo si era temuta una pleurite. Le belle giornate avevano vinto la malattia, ma lui era rimasto ansioso, cupo, depresso. Gli pareva all'improvviso di essere un vecchio e che la malattia, quella, quella vera, quella che ti indebolisce per il resto dei tuoi giorni, lo aspettasse dietro l'angolo. Non aveva detto niente a sua moglie e lo irritava vederla che lo osservava di nascosto. Un giorno era andato dal suo amico Pardone, il dottore di Rupipkus, da cui avevano l'abitudine di cenare una volta al mese. Pardone lo aveva esaminato a lungo e per scrupolo di coscienza lo aveva anche mandato da un cardiologo. I medici non avevano trovato niente se non la pressione arteriosa un po' alta, ma si erano trovati d'accordo sulla stessa raccomandazione deve prendere una vacanza. Da tre anni non aveva conosciuto vere vacanze. Ogni volta che era sul punto di partire capitava un caso di cui era costretto a occuparsi, tanto che un giorno che era appena arrivato da sua cognata in Alsazia aveva ricevuto una telefonata che lo richiamava a Parigi. D'accordo, aveva promesso brontolando al suo amico Pardone, quest'anno prenderò una vacanza qualunque cosa succeda. In giugno ne aveva fissato la data, il primo agosto. Sua moglie aveva scritto alla sorella. Costei che abitava col mar con il marito e i figli possedeva uno chalet sul colle dello schlup dove i maigret erano andati abbastanza spesso e dove la vita era gradevole e riposante. Ahimè, al cognato era appena arrivata la macchina nuova e lui aveva deciso di portare la famiglia a visitare l'Italia. Quante sede avevano passato lui e la signora maigret a discutere su dove andare. Avevano dapprima pensato alla loira dove maigret avrebbe potuto pescare poi all'hotel de Rochenoire a Sable d'Olon dove avevano trascorso eccellenti vacanze. Alla fine avevano optato per Sable. La signora maigret aveva scritto l'ultima settimana di giugno e le avevano risposto che tutte le camere erano prenotate fino al 18 di agosto. Alla fine era stato il caso determinare la decisione del commissario. Un sabato a metà luglio era stato chiamato verso le sette di sera alla Gare de Lyon per un caso senza grande importanza. Dal che desorfevra la stazione in una macchina della polizia giudiziaria ci aveva messo mezz'ora tanto le auto formavano una massa compatta. Erano stati annunciati otto treni supplementari e la folla nell'entrata sui binari dappertutto con valigie bauli fagotti bambini cani e canne da pesca evocava un esodo. Tutta quella gente stava andando in campagna o al mare avrebbe invaso fino il più piccolo albergo la più umile locanda senza contare quelli che avrebbero piantato una tenda non appena avessero scoperto uno spazio disponibile. L'estate era calda Maigret era ritornato a casa spossato come se fosse stato lui a imbarcarsi su un treno della notte. Cos'hai? aveva chiesto sua moglie che dall'epoca della bronchite era attenta a tutto. Comincio a domandarmi se dobbiamo andare in vacanza. Dimentichi che cosa ha detto pardon? Non lo dimentico. Immaginava con terrore gli alberghi le pensioni familiari stipate di pensionanti. Non faremmo meglio a passare le vacanze a Parigi. Dapprima lei aveva creduto che scherzasse. Noi per così dire non passeggiamo mai a Parigi insieme. A malapena una volta alla settimana troviamo il tempo di andare nel primo cinema che ci capita nei boulevard. In agosto la città vuota sarà nostra e la tua prima preoccupazione sarà di precipitarti al chiedesorfevre per occuparti di non so che caso. Ti giuro di no. Adesso dici così. Potremmo andare a Zonzo nei quartieri dove non mettiamo mai piede pranzando e cenando in ristorantini divertenti. Sapendoti qui la polizia giudiziaria ti telefonerà alla prima occasione. La polizia non lo saprà e nessun altro risulteremo assenti. L'idea lo attirava davvero e alla fine attirava anche sua moglie. Il telefono in sala da pranzo era dunque muto altro particolare a cui era difficile abituarsi. Due volte Maigret aveva teso la mano verso l'apparecchio prima di ricordarsi che non ne aveva il diritto. Ufficialmente non era a Parigi era a Sable Dolon. Era quello l'indirizzo che aveva fornito alla polizia giudiziaria e se un messaggio urgente fosse arrivato laggiù glielo avrebbero fatto recapitare a Parigi. Aveva lasciato il Quai des Orfevres il sabato sera e tutti lo credevano partito per il mare. La domenica erano usciti solo verso la fine del pomeriggio per cenare in una brasserie della Place d'Etern lontana da casa loro tanto per cambiare zona. Il lunedì mattina verso le 10 e 30 Maigret era sceso fino a Place de la Republique mentre sua moglie finiva le faccende e aveva letto i giornali a una terrasse quasi deserta. In seguito avevano pranzato alla Villette avevano cenato a casa ed erano andati al cinema. Nessuno dei due sapeva ancora cosa avrebbero fatto quel giorno martedì tranne che avrebbero mangiato il fricandò a casa e che poi probabilmente sarebbero andati all'avventura. Era un ritmo di vita a cui dovevano abituarsi. Sembrava strano non essere incalzati da obblighi non dover contare le ore i minuti. Maigret non si annoiava. A dire il vero aveva solo un pochino di vergogna a non far nulla. Sua moglie se ne rendeva conto. Non vai a prendere i giornali? Già si creava un'abitudine. Alle dieci e trenta sarebbe andato a prendere i giornali. Probabilmente li avrebbe letti alla stessa terrasse di Place de la Republique. Questo lo divertì. In conclusione era appena sfuggito alle costrizioni che già se ne creava di nuove. lasciò la finestra si mise una cravatta le scarpe cercò il cappello. Non è necessario che tu rientri prima di mezzogiorno e mezzo. Anche per lei non era più del tutto lo stesso Maigret ora che non andava al Ché des Orfevres. E una volta di più lui pensò a sua madre che gli buttava là vai a giocare un'ora ma rientra per pranzo. Persino la portinaia lo guardava con uno stupore non privo di rimprovero. Un uomo grande e forte ha il diritto di vagare così senza far niente? Un'annaffiatrice municipale passava lentamente e lui guardò come fosse stato uno spettacolo inedito l'acqua che scivolava fuori da una moltitudine di buchini e si spandeva poi sulla strada. Le finestre al Ché dovevano essere spalancate sullo spettacolo della Seine la metà degli uffici era vuota. Lucas era a Po dove aveva dei parenti e non sarebbe rientrato prima del 15. Torrance che aveva appena comprato un'auto d'occasione visitava la Normandia e la Bretagna. Non c'era quasi traffico e pochissimi tassi plus la Republique sembrava immobile come su una cartolina e solo un autobus di turisti vi portò un po' di animazione. Si fermò all'edicola e comprò tutti i giornali del mattino che era abituato a trovarsi sulla scrivania e a scorrere prima di mettersi al lavoro. Adesso aveva il tempo di leggerli e il giorno prima aveva perfino letto un certo numero di annunci economici. Si sistemò alla stessa terrasse allo stesso posto ordinò una birra e dopo essersi tolto il cappello e asciugato la fronte faceva già a caldo aprì il primo giornale. I due titoli più grandi riguardavano gli avvenimenti internazionali e un grave incidente stradale che aveva fatto otto morti un pullman era caduto in un burrone dalle parti di Grenoble. All'improvviso il suo sguardo si fermò su un altro titolo nell'angolo destro della pagina un cadavere in un armadio non gli fremettero le narici ma provò non di meno una certa eccitazione la polizia giudiziaria circonda di un certo mistero una macabra scoperta fatta ieri mattina lunedì nell'appartamento di un noto medico in boulevard Haussmann questo medico sarebbe al momento sulla costa azzurra con la moglie e la figlia prendendo servizio ieri mattina dopo aver passato la domenica in famiglia la cameriera sarebbe stata colpita da un odore sospetto e aprendo l'armadio da cui l'odore sembrava provenire avrebbe scoperto il cadavere di una giovane donna contrariamente alla tradizione la polizia giudiziaria si sta mostrando assai avara di informazioni il che lascia supporre che attribuisca a questo caso una importanza eccezionale il dottor Jay di cui si parla è stato richiamato d'urgenza e un altro medico che lo sostituisce durante le vacanze sarebbe coinvolto speriamo domani di essere in grado di fornire particolari di questa strana storia Maigret aprì gli altri due giornali del mattino che aveva comprato uno dei due non riportava l'informazione l'altro informato troppo tardi la riassumeva in poche righe ma sotto un titolo in grassetto un cadavere dal dottore la polizia giudiziaria è impegnata da ieri in un'inchiesta che potrebbe diventare un nuovo caso Petue con la differenza che stavolta due medici e non uno solo sembrano implicati in effetti il cadavere di una giovane donna è stato trovato nell'ambulatorio di un medico ben noto di Boulevard Haussmann ma finora non siamo stati in grado di ottenere informazioni più diffuse Maigret si sorpresi a borbottare idiota non ce l'aveva con i giornalisti ma con Jean Vier sul quale per la prima volta pesavano le responsabilità del servizio era parecchio che l'ispettore aspettava quell'occasione perché all'epoca delle precedenti vacanze di Maigret c'era sempre stato un agente più anziano per sostituire il commissario quest'anno era il capo per quasi tre settimane e Maigret aveva appena lasciato il che che scoppiava un caso e importante a giudicare dal poco che ne dicevano i giornali ora Jean Vier aveva già commesso un primo errore si era messo i giornalisti contro era capitato anche a Maigret di nascondergli delle informazioni ma ci metteva una certa dolcezza e anche se non diceva loro niente aveva tuttavia l'aria di fargli delle confidenze il suo primo impulso fu di andare in una cabina per telefonare a Jean Vier si ricordò appena in tempo che ufficialmente lui era Sable Dolon la scoperta del cadavere secondo i giornali risaliva al mattino precedente la polizia come pure la procura si era immediatamente impossessata del caso normalmente i giornali del lunedì pomeriggio avrebbero dovuto pubblicare l'informazione era intervenuto qualcuno nelle altre sfere oppure Jean Vier aveva preso la decisione di mantenere il silenzio un noto medico di Boulevard Haussmann Maigret conosceva il quartiere e quando era arrivato a Parigi era forse quello che lo aveva impressionato di più con i suoi palazzi calmi ed eleganti i portoni che lasciavano vedere antiche scuderie in fondo ai cortili l'ombra dolce dei castagni e le limousine in sosta lungo i marciapiedi mi dà un gettone non per telefonare al che perché gli era vietato ma per chiamare Pardon che era stato al mare in luglio ed era il solo al corrente delle vacanze in Parigini di Maigret Pardon era in ambulatorio mi dica conosce un certo dottor J che abita in Boulevard Haussmann anche il medico aveva avuto il tempo di leggere i giornali mi sono posto la domanda mentre facevo colazione ho cercato nell'annuario medico e sono piuttosto incuriosito si tratterebbe infatti di un medico di valore il dottor Jav ex interno di ospedale che ha una vasta clientela lo conosce l'ho incontrato due o tre volte ma l'ho perso di vista da parecchi anni che tipo di uomo è sul piano professionale per cominciare sì un medico serio che sa il fatto suo deve avere una quarantina d'anni forse 45 è un bell'uomo l'unico rimprovero che gli si potrebbe fare sempre ammesso che sia un difetto è che sia specializzato in clientela mondana e non è per caso che sia sistemato in boulevard rousman immagino che abbia guadagnato molti soldi ha sposato? lo dicono sul giornale io non lo sapevo sentami Gre spero che adesso non corra al che per occuparsi di questo caso le prometto di no e l'altro medico di cui parlano? non sono stato il solo stamattina a telefonare ai colleghi è abbastanza raro avere un caso del genere nella nostra professione e siamo curiosi come portinaie come buona parte dei medici che vanno in vacanza Java ha preso un giovane supplente per la durata della sua assenza non lo conosco personalmente e non penso di averlo incontrato si tratta di un certo Negrel Gilbert Negrel che ha una trentina d'anni ed è uno degli assistenti del professor Lebie questa è una referenza perché Lebie è noto per scegliere con cura i collaboratori e per essere un uomo difficile è molto impegnato? adesso? in generale meno del solito la maggior parte dei miei pazienti è in vacanza perché me lo chiede? vorrei che cercasse di ottenere il maggior numero possibile di informazioni su questi due medici non dimentica che è in vacanza per ingiunzione dell'ordine dei medici? prometto di non mettere piede al che del sorfevere il che non le impedisce di occuparsi del caso da dilettante è così? più o meno va bene farò qualche telefonata potremmo vederci stasera perché non viene da me a cena con sua moglie? no 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 sono io che la invito con sua moglie in un bistro qualunque verremo a prendervi verso le otto di colpo Maigret non era più esattamente lo stesso uomo della mattina aveva smesso di fantasticare e di sentirsi come un ragazzino che non va a scuola tornò al suo posto sulla terrasse ordinò un'altra birra e pensò a Jean V che doveva essere terribilmente eccitato forse aveva cercato di telefonargli a Sabre Dolon per chiedergli consiglio probabilmente no ci teneva a condurre il caso a buon fine da solo il commissario aveva fretta di saperne di più ma ora che non era più dietro le quinte doveva aspettare i giornali del pomeriggio come il pubblico quando rientrò a pranzo sua moglie lo guardò aggrottando le sopracciglie già fiutava qualcosa ha incontrato qualcuno? nessuno ho solo telefonato a pardon li portiamo a cena in un bistro stasera non so ancora quale non ti senti bene? sono in piena forma era vero il trafiletto del giornale aveva dato un senso alla sua vacanza e non era tentato di andare in ufficio a prendere in mano il caso per una volta era un semplice spettatore e trovava la situazione divertente cosa facciamo questo pomeriggio? andiamo a passeggiare in boulevard a Osman nel quartiere lei non protestò non gli chiese perché avevano tutto il tempo di mangiare senza guardare l'ora davanti alla finestra aperta cosa che non succedeva spesso persino i rumori di Parigi non erano i soliti invece di formare una sinfonia confusa i suoni più rari diventavano distinti si sentiva un tassì girare l'angolo d'una certa via un camion fermarsi davanti a una certa casa non fai la siesta? no intanto che lei lavava i piatti e si vestiva lui scese di nuovo per andare a comprare i giornali della sera il caso aveva acquisito diritto ai titoli in grande un nuovo caso Petiot una donna morta in un armadio due medici sul banco degli imputati grazie a tutti Grazie a tutti.